Marta Margotti dell'Università di Torino, professore di storia contemporanea e ci parlerà di Ernesto Buonaiuti. Suo titolo è Non giurate affatto la scelta di Ernesto Buonaiuti tra politica e religione. Prego Marta. Grazie, grazie per l'invito, per questa occasione importante di confronto tra gli storici, ma come è in dubbio anche con un valore civile e quindi fare memoria e memoria di queste persone credo sia un'occasione di ricostruzione storica certamente, ma anche un'occasione più ampia di considerazione del ruolo dell'università e della cultura in modo più ampio nella costruzione della nostra società. Allora, come è stato correttamente indicato, la mia relazione è dedicata alla figura di Ernesto Buonaiuti. Accompagnerò la mia presentazione con alcune diapositive che spero si vedano in questo momento. Benissimo. Si vede benissimo, grazie. Appunto, la figura al centro della mia ricostruzione è quella di Ernesto Buonaiuti, docente di storia del cristianesimo all'Università di Roma e durante la sua vita fu tre volte posto di fronte alla scelta di giurare. Nel 1916 come prete cattolico per il giuramento antimodernista, nel 1927 per il giuramento dei docenti universitari e poi nel 1931 per il giuramento fascista. Nelle prime due occasioni accettò di giurare, nella terza, come è noto, si rifiutò. Dunque, tre volte dovette giurare, due volte giurò e la terza no. Nel novembre del 1931, pochi giorni dopo aver comunicato al rettore il suo rifiuto di giurare fedeltà al fascismo, Buonaiuti scrisse ad Arturo Carlo Iemolo. Sì, ho seguito la via che mi ero prefissa, ma con la dominante cura di porre in luce le ragioni strettamente religiose che la ispiravano e di eliminare qualsiasi connotazione extra-religiosa del mio atto. Nella scelta di non sottostare al giuramento imposto ai professori universitari, Buonaiuti si appellava dunque a ragioni strettamente religiose, anche se a questi motivi se ne mescolavano altri, meno espliciti, che riguardavano il suo giudizio sull'università italiana e la possibilità di un'azione di estrema opposizione al fascismo. Negli anni precedenti, in parte suon malgrado, Buonaiuti aveva raggiunto una certa notorietà in seguito ai provvedimenti canonici e amministrativi che lo avevano colpito. Nato a Roma nel 1881 e ordinato prete cattolico nel 1903, aveva insegnato storie della chiesa al seminario dell'Appollinare, ma in seguito alle sue posizioni, considerate troppo polemiche contro alcuni ordini religiosi, fu costretto a dimettersi. Frequentò l'Università di Roma e frequentò le lezioni di Antonio Labriola, esprimendo, come si disse, un affetto appassionato per la causa democratica. Entrò anche in contatto con Romolo Muri e con altri esponenti della prima democrazia cristiana e impresse un deciso accento sociale alla sua lettura del cristianesimo. Iniziò poi, in questi stessi anni, siamo all'inizio del secolo, a collaborare ad alcune riviste di cultura religiosa, sostenendo la necessità che alcuni aspetti del cristianesimo fossero interpretati alla luce delle acquisizioni storico-critiche. Nel 1907 l'enciclica Paschen di del Papa Pio X contro le tendenze cosiddette moderniste colpì anche le posizioni di buon aiuti. Nelle sue ricerche il prete romano aveva intanto approfondito lo studio del Nuovo Testamento e le origini cristiane e nel 1915, proprio sulla base di queste sue ricerche, fu nominato professore straordinario di storia del cristianesimo all'Università di Roma. I suoi studi sul cristianesimo, in particolare sulla chiesa delle origini, provocarono una serie di condanne contro di lui del santo uffizio e nel 1916 Buonaiuti fu sospeso a Divinis, quindi gli fu vietato di amministrare i sacramenti. Il decreto però fu revocato quando Buonaiuti accettò di pronunciare nel luglio del 1916 il cosiddetto giuramento antimodernista. Ricercatore e giornalista fecondissimo, oratore e docente molto apprezzato, nel 1918 Buonaiuti fu dichiarato professore stabile all'Università di Roma e poi nel 1919 professore ordinario. Non finirono però le sue controversie con il Vaticano. Nel 1921 fu nuovamente sospeso a Divinis e scomunicato, dato che continuava a sostenere il diritto della libertà di ricerca storica di fronte ai limiti posti dal magistero ecclesiastico. Dal Vaticano gli fu richiesto di abbandonare la cattedra all'università, ma attraverso la mediazione del potente cardinal Gasparri ottenne la revoca del provvedimento canonico. In continuità con le aspirazioni democratiche giovanili, subito dopo la salita al potere del fascismo, pubblicò alcuni articoli che esprimevano la sua preoccupazione di fronte proprio all'ascesa del fascismo. Nel 1924 il Sant'Ufficio decretò nuovamente la scomunica e la messa all'indice, questa volta di tutte le opere di Buonaiuti. E nel 1925 gli fu intimato di togliere l'abito talare, appunto perché scomunicato. I tentativi di riavvicinamento di Buonaiuti alla Chiesa fallirono anche per il rifiuto tenace, e questo è da sottolineare di Buonaiuti, di abbandonare l'insegnamento in università. E nel 1926, proprio per questa sua ostinazione, fu condannato vitando. Vale a dire, il Sant'Ufficio decretò che non soltanto era scomunicato lui, ma erano scomunicate tutte le persone, tutti i fedeli cattolici, che fossero entrati in contatto con lui. Nel 1926, con le trattative in corso tra Italia e Santa Sede, il suo caso diventò un caso diplomatico che continuamente ritornò all'interno delle trattative per la definizione del concordato tra Italia e Santa Sede. E Mussolini, sollecitato dal Vaticano, ottenne che Buonaiuti fosse sospeso dall'insegnamento, pur rimanendo nei ruoli dell'università, e fu distaccato a un compito di ricerca e di edizione dell'opera Omnia di Gioacchino da Fiore. Nel 1929, dentro il concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa, il Vaticano ottenne l'inserimento di due norme sulla dismissione dell'abito talare e sull'allontanamento dalla cattedra di, cito, sacerdoti apostati o irretiti da censura, norme che di fatto colpivano proprio il professore della sapienza. Quando fu emanato il decreto legge dell'agosto del 31, che, come sappiamo, obbligava i professori universitari a giurare, Ernesto Buonaiuti risultava dunque sollevato dall'insegnamento, pur rimanendo nei ruoli dell'Università di Roma. Dopo alcune giornate di riflessione e dopo essersi confrontato con alcuni colleghi, Buonaiuti giunse alla decisione definitiva. Di fronte all'invito di giurare, il 19 novembre del 1931 scrisse al rettore dell'Ateneo romano, Pietro De Francisci, precisando la sua situazione accademica. Scriveva «Poiché da cinque anni mi è stato conferito e mi è stato regolarmente rinnovato un incarico scientifico che mi esonera dall'insegnamento, osservo, in linea pregiudiziale, che la formula del giuramento manca per me parzialmente, almeno, di oggetto». Dunque, dato che il giuramento riguardava anche l'esercizio dell'ufficio di insegnante, come era definito nel decreto, in effetti Buonaiuti poteva sindacare sull'applicabilità della norma nel suo caso. Però, per sgomberare il campo da ogni dubbio circa le sue intenzioni, puntualizzava subito dopo. Se però mi si chiede un impegno garantito scusate, ma perché la mia osservazione non appaia come una sofistica evasione, aggiungo immediatamente che allo stato attuale delle mie disposizioni di spirito intendo attenermi il più possibile aderente alle prescrizioni evangeliche e reputo mi sia agghiettata qualsiasi forma di giuramento. Ma, proseguiva ancora, se però mi si chiede un impegno garantito dalla mia lealtà di onestuomo, rispondo che, lontano come sono stato sempre dalla politica attiva, riconosco pure, a norma delle prescrizioni evangeliche, i miei tassativi doveri verso gli istituti vigenti, assurando che non appartengo e non apparterò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio. Dunque, Buonaiuti faceva due precisi riferimenti scritturistici nella sua lettera al Rettore. Il primo riferimento era il Vangelo di Matteo, dove Gesù afferma che, contrariamente a quanto fu detto dagli antichi, io vi dico non giurate affatto. Il secondo riferimento si richiamava invece al noto versetto del Vangelo di Luca, rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Buonaiuti, dunque, dichiarava a Cesare di non appartenere a organizzazioni incompatibili con le sue mansioni universitarie, ma per Dio si rifiutava di giurare. Inizialmente, Buonaiuti aveva sperato che moltissimi colleghi rifiutassero di giurare, in quanto scriveva, poi successivamente nelle sue memorie raccolte nel libro Il Pellegrino di Roma, cito, il professore universitario o è un sacerdote della verità e della scienza o è un poco apprezzabile messierante. Ma, come sappiamo, così non fu. Il 29 dicembre 1931, il ministro Balbino Giuliano comunicò al rettore il licenziamento di Buonaiuti dal 1 gennaio 1932. Buonaiuti aveva maturato a quel punto soltanto 16 anni di anzianità di servizio e non gli fu riconosciuta alcuna pensione, ma soltanto una piccola somma a titolo di liquidazione. In quelle giornate tormentate il professore rimosso scriveva a un suo ex allievo, Remo Missir, è amaro il passo, è difficile per me il momento, ma la mia coscienza è tranquilla e la mia anima soddisfatta. Di fronte a quello che definì il duplice ostracismo, quello della curia e quello dell'autorità statale Buonaiuti si trovava così, come scriveva, materialmente come spiritualmente con la sua vita ormai veramente allo sbaraglio. Riuscì a mantenere se stesso e l'anziana madre e a continuare i suoi studi grazie all'appoggio trovato nei gruppi protestanti romani e in particolare nei circoli dell'Associazione Cristiana dei Giovani che lo invitarono a svolgere alcune lezioni e conferenze che poi replicò anche sempre grazie la rete dell'Associazione Cristiana dei Giovani anche in altre città italiane. Nonostante la stretta sorveglianza del regime ma anche impedite in alcune occasioni per l'intervento di alcune curie vescoluili proprio per impedire che un prete cattolico condannato dal Santo Uffizio tenesse queste lezioni. Riuscì a recarsi anche più volte all'estero per delle conferenze ad Oxford in Francia più volte e soprattutto in Svizzera per i conveni di Erano si è organizzato ad Aspona e in modo più continuativo a Lausanna dove nel 1939 rifiutò però di aderire alla Chiesa Riformata un'adesione che gli avrebbe permesso di diventare professore ordinario proprio nell'università la facoltà teologica dell'università di Lausanna. Nel 1939 gli fu ritirato il passaporto e quindi non poteva più andare all'estero e fu anche ordinata la sospensione delle pubblicazioni della sua rivista religio. Continuò comunque a pubblicare numerosi libri tra cui i tre ponderosi volumi di storia del cristianesimo tra il 1942 e 43 che sono un po' la sintesi delle sue ricerche storiche e delle sue riflessioni sull'esperienza cristiana. L'atteggiamento di Buonaiuti aveva comunque un certo margine di ambivalenza perché negli anni 30 firmandosi con degli pseudonimi collaborò con alcuni giornali tra cui il Corriere Padano fondato dal gerarca ferrarese Italo Balbo e diretto Danello Quilici. Era inesso Buonaiuti trascorse tutti gli anni della guerra dunque a Roma le ristrettezze economiche in cui si era trovato anche a causa del mancato giuramento lo costrinsero a vendere buona parte dei volumi della sua biblioteca mentre un nuovo decreto del Sant'Uffizio questo del 1944 pose all'indice tutte le opere pubblicate da Buonaiuti dopo il 1924. La situazione di Buonaiuti con la fine del regime fascista e con la liberazione di Roma in realtà coinvolse la sua situazione accademica. sulla base delle norme per il reintegro dei professori che avevano infiutato il giuramento fascista il 21 agosto del 1944 Buonaiuti scrisse al ministro della pubblica istruzione Guido De Ruggeri che era stato indicato dal partito d'azione nel governo Bonomi che però per il suo caso sollevò delle difficoltà legate al concordato. Buonaiuti replicò che il concordato non aveva valore retrattivo e dunque doveva essere reintegrato nella sua cattedra. Il ministero tergiversò e Buonaiuti da parte sua nel novembre del 44 scrisse al rettore per essere reintegrato nell'insegnamento ma questo non avvenne ancora. Nei mesi successivi la situazione di Buonaiuti continuava a essere sospesa ma sappiamo per motivo delle norme del concordato ma parallelamente a questo per le perduranti obiezioni del Vaticano. La recente apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII permette di ricostruire più nel dettaglio i passi intrapresi dalla Santa Sede presso il governo italiano per impedire a Buonaiuti la ripresa dell'insegnamento universitario. Nel 45 Buonaiuti si reca due volte almeno dal ministro della pubblica istruzione il liberale Vincenzo Arangio Ruiz per richiedere di essere reintegrato sulla sua cattedra anche per insegnare un'altra materia ad esempio indica Buonaiuti storia medievale oppure un'altra materia all'inizio del 45 appaiono alcuni articoli in particolare sull'Avanti socialista come sappiamo che risollevò la questione del mancato reintegro di Buonaiuti nei ruoli dell'università anche sulla base di queste pressioni politiche il ministro decretò soltanto il 7 maggio 45 che Buonaiuti potesse essere reintegrato nei ruoli dell'università con effetti ai fini economici dal primo gennaio del 44 ma nella stessa lettera in cui comunicava a Buonaiuti il reintegro nei ruoli dell'università indicava che Buonaiuti era distaccato per motivi di ricerca nella lavori e negli studi su Gioacchino Daffiore dunque lentezze rinvii e alla fine il reintegro ma con il divieto di riprendere le elezioni erano l'esito delle forti pressioni vaticane che avevano posto nuovamente Buonaiuti al centro di serrate trattative politiche e diplomatiche dunque Buonaiuti non riesce a salire in 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 cattedra soltanto per iniziativa di un gruppo di studenti all'inizio del 46 Buonaiuti tiene un ciclo di conferenze all'università di Roma ma di fatto non ritornò più sulla sua cattedra morì poco dopo il 20 aprile del 46 per una malattia cardiaca allora alcune considerazioni che mi avvicinano alla alla conclusione portano a considerare quanto le motivazioni di Buonaiuti come ripreso anche nelle indicazioni presenti nella sua lettera al rettore erano espressamente di tipo religioso fatto che ribadì anche nella corrispondenza con gli amici e con gli ex allievi e dunque tornò a sottolineare quanto la sua scelta fosse legata alla volontà di aderenza al Vangelo dunque quello che intendeva era mettere in evidenza quanto quella scelta era legata a una volontà di coerenza tra il suo insegnamento e la sua pratica e la sua vita e dunque questo elemento di volontà di coerenza fu l'elemento che in quanto legato alle prescrizioni evangeliche voleva mantenersi fedele ma questa sua considerazione della gli obblighi di coscienza provenienti della sua aderenza al Vangelo avevano di fatto anche un riflesso in quella che era la sua concezione della politica vale a dire che dal suo punto di vista non poteva esistere un'autorità un'autorità politica che potesse coartare quelli che erano invece gli obblighi di coscienza e dunque qualsiasi governo e a maggior ragione il governo fascista non poteva imporre per motivi politici dei vincoli alla libertà di coscienza dunque in modo indiretto la decisione di Buonaiuti aveva anche un riflesso politico anche perché in realtà Buonaiuti sperava che una parte rilevante dei suoi colleghi si sarebbe rifiutata di giurare invece come rilevò nelle sue memorie soltanto pochi scelsero di non giurare invece se fosse accaduto il contrario scriveva questo sarebbe suonato come un monito impellente perché il governo nelle sue incomposte velleità totalitarie limitasse le sue indebite pretese rinunciasse ai suoi volgari e brutali sconfinamenti in zone che non erano di sua spettanza ma come ammetteva amaramente lo stesso Buonaiuti dato che una cito proporzione ridicolamente infinitesimale dei docenti aveva scelto di non giurare questa era stata questo suo auspicio soltanto una sua lusingante previsione quello che accade poi negli anni seguenti fu una ritornare di Buonaiuti su questa scelta considerando quanto le responsabilità dovessero essere ripartite certamente sui singoli docenti che non avevano firmato ma anche cito sull'intransigenza curiale che aveva con un articolo pubblicato sull'osservatore romano in qualche modo concesso e autorizzato i docenti cattolici a giurare prestando delle riserve morali però nel momento in cui giuravano ma Buonaiuti considerava che ugualmente responsabile di questa scelta di scivolamento dell'Italia nella nelle trappole del fascismo una uguale responsabilità era data a quei settori della cultura italiana succube dell'idealismo germanico come lo definiva trapiantato senza radici fra noi che avevano fornito sia l'osservatore romano sia gli idealisti o i neo idealisti italiani avevano fornito autorevoli giustificazioni al giuramento dei professori e anche per questi erano ritenuti ugualmente responsabili della decadenza della società italiana quasi come il fascismo dunque motivazioni religiose ma anche motivazioni indirettamente politiche ma alle quali è necessario aggiungerne altre che possono essere rilevate proprio prendendo alcune parole scritte da Levi della vita collega di Buonaiuti e in contatto con lui anche in quelle giornate Levi della vita che scrive proprio riferendosi a Buonaiuti nelle sue memorie fantasmi ritrovati che nel caso di Buonaiuti vi era stato anche un lato psicologico che aveva contribuito alla sua scelta in quanto probabilmente aveva agito nel subcosciente di Buonaiuti l'aspirazione a uscire sia pure con uno strappo doloroso dalla situazione assurda in cui l'aveva messo l'ambigua politica del governo riluttante da una parte dall'abdicare alla propria sovranità fino al punto di destituire un suo professore su richiesta della Santa Sede ma anche di desideroso il governo di allontanare un professore dalla cattedra dunque la scelta di Buonaiuti di giurare anche considerando le riflessioni della vita può essere interpretato come una fuga per risolvere le contraddizioni della sua posizione di prete scomunicato e professore senza cattedra dopo il 1926 le defatiganti negoziazioni di Buonaiuti per definire la sua posizione accademica alla luce delle trattative concordatarie avevano incrinato quella coerenza tra vita e ideale che Buonaiuti intendeva conservare quella mancanza di coerenza aveva un costo psicologico che probabilmente Buonaiuti non era più disposto a sopportare e che trovò un'uscita di sicurezza proprio nella scelta di non sottostare al giuramento fascista è però possibile allargare l'osservazione alla più ampia dimensione esistenziale del mancato giuramento di Buonaiuti per valutare quegli aspetti meno riconducibili alla sfera della politica e della sua cultura religiosa dunque due considerazioni conclusive considerare la soggettività di Buonaiuti di fronte all'imposizione del giuramento e le numerose anche relazioni di amicizia e anche la sfera dei rapporti affettivi coinvolte in quella scelta di non giurare permette di inserire ulteriori elementi di complessità nella ricostruzione di quel gesto in questa prospettiva almeno due elementi possono essere considerati innanzitutto si può ipotizzare che Buonaiuti abbia saputo reagire all'imposizione dello stato fascista potendo anche attingere alle sue precedenti e ripetute esperienze di disobbedienza di fronte ai provvedimenti di condanna delle autorità ecclesiastiche anche se non sempre in modo coerente Buonaiuti percepì che bisognava ribellarsi al potere politico come aveva già fatto ribellandosi al potere religioso per rimanere fedeli a se stessi un secondo elemento che ritengo possa essere considerato con una certa utilità è la considerazione del ruolo avuto dalle reti affettive di Buonaiuti reti di amicizia che aiutarono Buonaiuti a sostenere la sua scelta di disobbedienza al giuramento scegliere nel 1931 la disobbedienza di fronte all'imposizione del regime fascista fu certamente il frutto di un percorso di maturazione individuale ma che poté contare sulla comprensione del gruppo coeso di amici e discepoli della coinonia e di questa piccola comunità che si era creata negli anni precedenti intorno al professore di storia del cristianesimo formata da amici ma anche da ex allievi che avevano formato un gruppo che regolarmente si incontrava con Buonaiuti per riflettere sui testi biblici e sulle letture patristiche proprio la ricostruzione di queste reti di amicizia dentro e fuori gli ambienti accademici permette di considerare le molteplici connessioni di cui si nutri l'opposizione al fascismo anche negli anni del più forte consenso al regime e amplificare così la portata del gesto isolato di ribellione di Buonaiuti e degli altri undici o poco più professori universitari grazie ho terminato grazie a te Marta è stata una bellissima conferenza che ci ha messo di fronte alle difficoltà di una persona che subisce pressioni da due poteri diversi e entrambi contrastanti e dolorosi per lui faremo dopo l'ultima relazione l'apertura del dibattito e quindi passerei subito alla parola a Giovanni Paoloni che ci parlerà di Vito Volterra il professor Giovanni Paoloni è professore di archivistica generale e altriennio di storie politiche della ricerca e della scienza e della ricerca e alla scuola di specializzazione in beni archivistici e librari dell'Università di Roma la Sapienza do quindi a lui la parola se vuoi condividere lo schermo benissimo sì adesso vedo perché io devo maneggiare contemporaneamente due mouse ho qualche difficoltà Marta dovresti chiudere il tuo video forse e l'audio anche voilà hai visto che c'è condividere lo schermo vero? sì 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 sto cercando di allora sto cercando di condividere però la cosa giusta quindi perché ho molte cose aperte contemporaneamente quindi sto cercando di condividere quella corretta ditemi se la condivisione si vede no non vediamo non vedete per ora no abbiamo ancora sullo schermo ecco forse sì ora va bene perfetto allora il titolo del mio intervento è il rifiuto di Vito Volterra matematica e politica dalla damnazio memoria alla memoria ritrovata e per prima cosa vorrei ringraziare per l'invito e naturalmente in particolare vorrei ringraziare Silviano Roero diciamo collega amica per aver pensato a me un ringraziamento non è formale perché in realtà sarebbero state possibili molte scelte infatti oggi sono parecchi ricercatori che si occupano non solo della biografia scientifica ma anche della biografia politica di Vito Volterra e io non ho alcuna difficoltà a dire che ci sono fra loro persone che si sono occupate ultimamente di questi studi con maggiore continuità con maggiore perspicuità di come l'ho fatto io e che quindi avrebbero potuto altrettanto bene diciamo svolgere questo intervento intervento e questo però mi dà modo di entrare subito in media stress perché in realtà io credo che questa abbondanza di studi che oggi c'è non solo sulla biografia scientifica ma anche su quella politico istituzionale di Vito Volterra in realtà è la dimostrazione della validità di una scelta lavorativa che ha coinvolto me ma della quale diciamo io ho la responsabilità di avere accettato ma in realtà fu a suo tempo una scelta dell'Accademia dei Lincei nel 1990 di lavorare in occasione di una celebrazione di Volterra di cui dirò dopo non più soltanto sulla parte storico-matematica della sua eredità ma anche di iniziare le attività di valorizzazione dell'archivio che l'Accademia aveva acquisito da poco meno di un decennio per una donazione da parte degli eredi e Volterra non è stato mai dimenticato né trascurato dal punto di vista scientifico e storico-scientifico perché sarebbe stato impossibile sui suoi risultati ancora oggi si lavora diciamo su cose fatte da lui mentre invece le iniziative del 1990 hanno segnato la fine di un lungo e in generoso silenzio sull'aspetto politico-istituzionale della sua biografia naturalmente quando Silvia mi ha fatto questo invito io ho accettato subito ho accettato molto volentieri e poi però mi sono trovato a chiedermi che cosa si potesse dire su Volterra e sul tema del giuramento che non fosse già stato detto ripetere le cose non è bello diciamo in effetti tra i casi dei professori che si pensino 12 13 11 o 24 non tutti questi casi hanno avuto la stessa notorietà e sono stati altrettanto studiati in particolare io trovo diciamo triste l'omissione e la scarsità di studi sul caso di Giorgio Herrera di cui ancora non si è parlato e che non è nemmeno biografato sul dizionario biografico degli italiani e il cui fratello Luigi che era un ingegnere era invece un corrispondente di Volterra e molti appunto mentre alcuni sono stati più o meno dimenticati invece Volterra dal momento in cui se ne è recuperato l'archivio la vicenda di Volterra è stata ricordata e studiata molte volte e quindi proprio riflettendo su questo mi è venuta l'idea che in realtà il mio intervento sarebbe stato utile se fosse stato non ripetitivo di cose già note ma piuttosto se avesse ruotato intorno proprio a questa idea di notorietà una parola che si può utilizzare per Volterra e una parola che in qualche modo della quale in qualche modo lui stesso autorizza l'uso proprio attraverso ciò che scrive nella lettera al rettore De Francisci con cui gli comunica che non avrebbe prestato il giuramento di fedeltà al regime spero che il testo della lettera si veda e lo leggo brevemente Volterra scrive sono note vedete appunto l'idea di notorietà sono note le mie idee politiche per quanto esse risultino esclusivamente dalla mia condotta nell'ambito parlamentare la quale è tuttavia insindacabile in forza dell'anticolo 51 dello statuto fondamentale del regno la signoria vostra comprenderà quindi come io non possa in coscienza aderire all'invito da lei rivoltomi con lettera 18 corrente relativa al giuramento dei professori queste parole coraggiose sono state ripetute molte volte e sembrano molto lineari ma in realtà non sono così ovvie fra l'altro come abbiamo visto proprio nel corso della mattinata Volterra a differenza di De Sanctis a differenza di Bonaiuti ma non a differenza di Levi della vita che in questo è diciamo consonante con lui Volterra rivendica la dimensione politica del suo riciclo e questo va sottolineato perché in Italia da più di cinque anni l'informazione nel 1931 da più di cinque anni l'informazione era totalmente soggetta al controllo del regime e in realtà già dal 1926 già diciamo da prima del 1926 la censura aveva pesantemente colpito sia gli organi di stampa che non erano stati ancora totalmente fascistizzati sia quelli che non erano proprio fascistizzabili e che quindi poi dopo il 1926 sarebbero stati proprio diciamo soppressi e aboliti e dunque quando Volterra diceva sono note le mie idee politiche a chi si riferiva in termini di notorietà a chi erano note le idee politiche di Volterra certamente le sue idee politiche erano note al governo e alla polizia politica che su di lui aveva aperto un fascicolo che è visibile all'archivio centrale dello Stato sicuramente erano note al rettore De Fantisci il quale oltre ad essere un accademico e un giurista era anche un uomo politico di peso del partito nazionale fascista e che pochi mesi dopo questa vicenda sarebbe diventato ministro di grazia e giustizia succedendo ad Alfredo Rocco ovviamente erano note anche nel mondo accademico e nella comunità scientifica insomma in altre parole le idee politiche di Volterra erano note al regime di cui era oppositore e a una quota non irrilevante per qualità se non per numero di quella classe dirigente italiana della quale Volterra era stato fino a 5-6 anni prima un esponente autorevole molte delle immagini dei documenti che citerò non le faccio vedere nel powerpoint perché si possono agevolmente vedere all'interno della mostra documentaria online che è stata a mio avviso molto molto ben allestita tanto più alla luce delle difficoltà che ci sono state richiamate dall'archivio storico dell'Università di Torino e allora cerchiamo un po' di capire invece a questo punto ciò che Volterra dice nella seconda parte della sua lettera in cui dice che le sue idee politiche non sono sindacabili perché risultano soltanto dalla sua condotta parlamentare cosa intende dire visto che in realtà Volterra dopo le cosiddette leggi fascistissime diradò molto anzi praticamente cessò del tutto la sua partecipazione ai lavori del Senato la risposta in realtà non è difficile fin dal 1921 Volterra aveva espresso privatamente preoccupazione per la situazione politica italiana e per la natura autoritaria del movimento fascista che gli era stato subito chiaro ma non le aveva espresse pubblicamente nel 1921 si era limitato a parlarne con i suoi corrispondenti anche con alcuni suoi corrispondenti stranieri mentre invece nella primavera del 1923 la sua opposizione alle politiche del governo fascista si manifesta in modo clamoroso con una serie di iniziative parlamentari e non solo parlamentari ma in particolare parlamentari contro la riforma universitaria di Gentile riforma universitaria della quale non lo colpiva negativamente soltanto l'aspetto che poi viene molto in realtà messo in rilievo e cioè la logica di svilimento del significato culturale delle discipline matematiche e fisiche ma soprattutto la trasformazione in senso autoritario delle regole di governo dell'università ora in questo c'è una differenza fra gli oppositori in senato della riforma Gentile perché fra questi oppositori troviamo anche dei fascisti sinceramente fascisti per esempio il caso del fisico fiorentino Garbasso il quale essendo celebre era anche diciamo un grande studioso era diventato senatore si opponeva alle riforme di Gentile per la ragione culturale che io ho appena detto ma in realtà era fedele al regime e sarebbe stato anche potestà sarebbe stato nominato potestà di Firenze quindi la posizione di Volterra era qualitativamente diversa nell'ambito del piccolo drappello degli oppositori delle riforme di Gentile e il figlio maggiore di Vito che è poi l'illustre romanista Edoardo Volterra che è stato anche giudice costituzionale ha ben descritto in un suo discorso che è stato studiato e pubblicato da Pierangelo Buongiorno e da Annalisa Gallo il degrado morale indotto dal fascismo nel mondo universitario del quale il giuramento è un momento centrale ma la riforma gentiliana dell'organizzazione di governo accademico costituisce in realtà una imprescindibile premessa strutturale ed è proprio nell'opposizione alla riforma gentile che si consolida la vicinanza personale e politica di Vito Volterra a Giovanni Amendola il legame con Amendola è molto forte nei ricordi della famiglia questo viene diciamo detto in particolare recentemente io ho scritto ho redatto per il dizionario biografico degli italiani la voce su Vito Volterra e in quell'occasione ho avuto una corrispondenza con uno dei nipoti di Volterra Enrico il quale mi ha raccontato diciamo alcune cose che riguardano Amendola che io non sapevo Amendola era un deputato era deputato meridionale la sede del suo collegio elettorale era a Salerno Amendola era originario di Sarno però per partecipare ai lavori parlamentari si trovava spesso a Roma e a Roma viveva nel palazzo di via di Porta Pinciana che era di proprietà della famiglia Alvalgia Volterra e quando venne per la prima volta aggredito il 26 dicembre del 1923 dalle squadre fasciste lo fu proprio su via Francesco Crispi quindi molto vicino a questa sua residenza romana dalla quale lui normalmente usciva per recarsi alla Camera percorrendo una strada che a chi non è diciamo di Roma forse il nome non dice nulla ma è una delle strade che dal quartiere di Pinciano che sta alle spalle di via Veneto porta nella zona centrale dove c'è il Parlamento che è via Francesco Crispi dal 1923 al 1926 Volterra in realtà ricopre ancora importanti posizioni all'interno del mondo accademico e della comunità scientifica ma dalla fine del 1924 cioè da quando partecipa con Amendola alla Costituzione dell'opposizione parlamentare liberale e democratica e ancor più dalla primavera del 1925 cioè da quando firma il Manifesto Croce la sua situazione si fa sempre più precaria e dal 1926 in poi viene completamente emarginato dalle istituzioni che guidava e di alcuna delle quali aveva anche promosso la fondazione come nel caso del CNR e tuttavia bisogna notare che Vito Volterra non è un militante antifascista nel senso tradizionale del termine quando lui dice che le sue idee politiche risultano solo dalla condotta parlamentare bisogna prenderlo alla lettera fuori dal Parlamento e su è un antifascismo delle scelte quotidiane e il governo cercherà molte volte di coglierlo in fallo per poterlo accusare di svolgere un'attività antifascista illegale e non ci riuscirà mai tenete presente che Volterra era anche sorvegliato dalla polizia politica presente nelle ambasciate italiane in particolare nell'ambasciata di Parigi dove Volterra era praticamente di casa non all'ambasciata ma a Parigi nelle istituzioni universitarie parigine nelle istituzioni scientifiche parigine e lui era strettamente controllato dalla polizia politica anche lì e i molti tentativi di cogliere suoi contatti con i fuoriusciti italiani furono sempre destinati all'insuccesso e furono fonte di frustrazione per la polizia politica italiana tuttavia da febbraio del 1926 Volterra diventa invisibile per l'opinione pubblica italiana presso la quale aveva avuto fino ad allora una certa attenzione e visibilità ma con la quale non aveva più modo di comunicare ma la cosa a mio avviso più grave è che in realtà lui comincia a diventare invisibile e irrilevante per una parte crescente dei suoi colleghi cioè molti suoi colleghi puramente semplicemente fanno finta che lui non esista più tralasciando una serie di angherie maggiori e minori a cui è sottoposto dalla polizia con abusi dai quali a volte viene difeso dal figlio Edoardo che nel frattempo svolge anche la professione legale il fatto di maggior rilievo secondo me è che la sua attività scientifica pubblica in Italia si riduce sempre di più quindi mentre svolge ancora un ruolo importante in vicende accademiche cruciali come per esempio l'istituzione della Cattedra di Fisica Teorica a Roma nel 26 il concorso che porta alla nomina di Enrico Fermi continua Volterra dopo il 1926 ad offrire un sossegno importante al gruppo di Fisica Romana e Orso Mario Corbino grazie alla sua autorevolezza internazionale che non viene mai meno e anzi diciamo aumenta man mano che la sua visibilità in Italia diminuisce perché man mano che questo succede Volterra sempre di più lavora all'estero in particolare a Parigi infatti viene adottato diciamo così dalla comunità matematica francese e a Parigi lavora svolgendo sia attività didattica che attività di ricerca presso l'Institut Poincaré e presso il Bureau Internazionale des Poits et Mesures che diventano la sua sede operativa rispetto alla comunità scientifica internazionale il fascismo non può danneggiare la sua reputazione scientifica però può fare in modo che la sua esistenza venga totalmente ignorata e lo fa con successo ad esempio lo fa cancellando il suo ruolo nell'istituzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche che è una sua creatura dal punto di vista della fondazione e che invece nella narrazione di regime sia pubblica che interna a CNR diventa una creatura di Guglielmo Marconi e nel caso di Volterra quindi il giuramento del 1931 si colloca in questa traiettoria diciamo così di invisibilità in questa strategia di invisibilità che il regime usa nei suoi confronti vediamo le tappe di questa strategia dell'invisibilità bisogna dire che il rifiuto del giuramento da parte di Volterra porta alla sua uscita dall'università alla quale poi due anni dopo si somma un altro giuramento quello che è già stato ricordato nel 1933 in posto ai soci dell'Accademia che ugualmente Volterra rifiuterà e vedremo che però lo farà in modo diverso da come aveva rifiutato il giuramento universitario e che poi lo porterà a essere espulso da varie accademie italiane fra cui i lincei che aveva presieduto la società dei 40 che aveva presieduto la società reale di Napoli e anche l'Accademia delle Scienze di Torino Volterra di questa strategia del regime è pienamente consapevole tanto che nel 1934 scrive una lettera a un suo corrispondente americano George Henry Hale e gli scrive se non vedrai più il mio nome tra i soci dei lincei o se le mie lettere indirizzate colatti verranno respinte al mittente non pensare che io sia morto tornando indietro nel tempo già da prima del 1931 si verificano delle vicende che prese singolarmente potrebbero essere sottovalutate ed etichettate come poco significative o forse neanche collegate fra loro ma che invece messe in sequenza cronologica disegnano il quadro di un'attenzione sistematica del regime verso Volterra e di un contrasto sistematico alla sua visibilità la più significativa a mio avviso è quella che riguarda le mancate dimissioni dall'Accademia dei lincei all'inizio di febbraio del 1926 Volterra prepara una lettera di dimissioni dalla presidenza dell'Accademia dei lincei perché riceve delle pressioni da parte di alcuni soci che vorrebbero che lui si dimettesse il testo di questa lettera è il seguente te lo leggo è molto breve sento che in questo momento la mia persona alla direzione dell'Accademia può non riuscirle utile e questa opinione mi è stata pure manifestata da alcuni soci mentre ringrazio i colleghi della fiducia che mi hanno sempre dimostrata alla quale ho cercato di corrispondere nel miglior modo che mi è stato possibile li prego di voler accettare la mia rinunzia alla presidenza in realtà di questa lettera esiste solo la minuta perché Volterra non manderà mai questa lettera però che cosa succede? Succede e questo si vede dalla corrispondenza con Luigi Herrera il fratello di Giorgio Herrera perché Herrera scrive a Volterra dicendo gli ho visto sui giornali che lei si è dimesso dalla presidenza dell'Accademia dei lincei ne sono profondamente addolorato eccetera gli dice fra l'altro come a suo tempo mi rallegrai con lei per la nomina presidente dei lincei desidero ora esprimerle il mio rammarico per il suo abbandono dell'alta carica del quale danno notizie ai giornali e Volterra gli risponde carissimo ingegnere la notizia non era esatta o meglio diciamo nella minuta di questa lettera c'è scritto la notizia era prematura che poi viene cancellato e sostituito la notizia non era esatta soprattutto era una notizia tendenziosa che per ora ha prodotto una reazione contraria alla persona alla pressione che si voleva esercitare ma ciò che serva all'avvenire è ben difficile a prevedersi e a dirsi in questo momento fra le pressioni dei soci che non volevano che Volterra si dimettesse ci sono gli interventi di due persone che voglio menzionare anzi tre persone soci lincei che voglio menzionare esplicitamente perché di qualcuno di loro si parla anche in questo convegno uno per esempio è Francesco Ruffini il cui figlio in realtà Edoardo Ruffini è uno dei professori che non hanno giurato Carlo Somigliana un suo collega matematico gli scrive caro Volterra Ruffini mi ha detto oggi che gli ha manifestato l'intenzione di presentare le dimissioni dalla presidenza dei lincei a cagione della situazione che si è determinata con la fondazione dell'Accademia d'Italia lo prega di non farlo e Volterra gli risponde caro Somigliana alcuni soci avevano insistito presso di me perché presentassi le dimissioni ma soci autorevoli come Scialoia Ruffini e Salandra e molti altri erano di opposto parere la notizia fu data da qualche giornale ed era falsa non so chi l'ha provocata ma puoi dire a Ruffini che il ministro ha detto che i criteri che i decreti si riferisce ai decreti di nomina dei nuovi soci lincei saranno firmati regolarmente non vediamo apparire diciamo in questa vediamo apparire in questa lettera anche la figura di Vittorio Scialoia il quale non sarà coinvolto nella vicenda dei giuramenti accademici perché in realtà muore prima che l'obbligo del giuramento diventi effettivo ma che era un buon un buon amico di Volterra nel 1928 c'è un'altra vicenda cioè i delegati del CNR italiano alla riunione dell'International Research Council che è un organismo che Volterra aveva contribuito a fondare e del quale era vicepresidente Volterra non fa parte della delegazione italiana ma come vicepresidente partecipa ai lavori dell'International Research Council e la delegazione italiana protesta opponendosi alla sua partecipazione Volterra indirizza una lettera a Bonaldo Stringer direttore generale oggi diremmo governatore della Banca d'Italia che del CNR è l'amministratore e lo mette al corrente del comportamento della delegazione italiana e protesta molto significativamente a questa lettera Stringer non risponderà e questo è significativo perché fino ad allora Stringer aveva operato in stretta collaborazione con Volterra in tutte le attività di organizzazione della ricerca scientifica in Italia fin dal 1906-1907 con la ricostituzione della società italiana per il progresso delle scienze nel 1933 come ho già detto Volterra rifiuterà di giurare fedeltà a regime presso la Reale Accademia Nazionale dei Lincei e rifiuta in realtà presso tutte le accademie che gli chiedono di farlo a giudicare dalla documentazione disponibile però questa volta il suo rifiuto non è espresso con una missiva esplicita come era avvenuto nel 1931 in realtà Volterra riceve prima un invito e successivamente una sollecitazione da Vittorio Rossi che dopo la morte di Scialoia era diventato commissario dell'Accademia dei Lincei perché l'Accademia era stata commissariata dal governo e in realtà si tratta non è una manifestazione di maleducazione la mancata risposta ma è una conseguenza di quell'espressione nella lettera a De Francisci in cui Volterra aveva detto sono note le mie idee politiche perché un uomo che nel 31 aveva rinunciato alla cattedra per non giurare avrebbe dovuto smentire se stesso nel 33 e perché Vittorio Rossi voleva insisteva per ottenere da lui una risposta esplicita se non per umiliarlo nuovamente nel 1937 invece e questo quindi nel 34 c'è anche la decadenza dalle accademie italiane con una eccezione notevole che dalla mostra risulta che è quella dell'Istituto Lombardo di cui Volterra è ancora socio nel 1938 quando viene espulso per quando viene espulso per scusate ho perso il filo quando viene espulso per in quanto ebreo nel 37 era stato nominato socio della Pontificia Accademia delle Scienze e e poi successivamente era stato successivamente l'Accademia delle Scienze in realtà si era molto occupata di lui e concluderei ricordando due cose la prima è che in realtà dopo la sua morte l'Accademia Pontificia è stata l'unica a tenere una commemorazione di Volterra e nel 1946 Guido Castelnuovo inaugura la ricostituzione dell'Accademia dei Lincei con un discorso in cui commemora Volterra e nel 1960 Volterra viene ancora ricordata dall'Accademia dei Lincei in occasione del Centenario della Morte in questa circostanza sembrerebbe quindi che tutto vada bene invece no perché in realtà in queste celebrazioni che vengono fatte la figura politica di Volterra non viene mai ricordata verrà ricordata per la prima volta nel 1990 e che cosa era cambiato nel 1990 a mio parere erano cambiate due cose innanzitutto che era diventato disponibile l'archivio grazie alla donazione fatta negli eredi nel marzo del 1981 la seconda è che nel 1990 gli ex colleghi di Volterra che erano stati complici della strategia dell'invisibilità promossa dal regime ormai erano morti e questo provocava una diversa sensibilità concludo con una citando il caso di un grande torinese Giancarlo Vic figlio della scrittrice antifascista Barbara Allison il quale nel novembre del 1950 aveva rifiutato di giurare fedeltà al governo degli Stati Uniti come gli veniva prescritto da una legge del periodo maccartista insegnava allora a Berkeley che era un'università pubblica e il mancato giuramento portò al suo licenziamento poco dopo essendo un fisico di levatura assolutamente straordinaria fu assunto da un'istituzione privata che era Caltech il Carnegie Institute of Technology Giancarlo Vic poco prima di morire raccontava questa vicenda a Luigi Radicati e gliela raccontava con queste parole sulle quali concludo ero stato costretto a prestare un giuramento in Italia per sopravvivere che si riferisce al giuramento di fedeltà e me ne ero pentito non avrei mai potuto ripetere un atto che ripugnava ai miei principi liberali grazie Gianni per questa panoramica su Volterra e sulla sua scelta in quel periodo difficile la situazione che venne a crearsi appunto negli universitari italiani molti dei quali collusi con il regime come Francesco Severi già citato prima passerei direttamente quindi alla discussione finale della mattinata e quindi chi vuole intervenire è pregato di farlo magari condividendo lo schermo prego Ferdinando Treggiari sì buongiorno a tutti avrei una piccola domanda per Marta Margotti perché mi pare che il caso Buonaiuti metta a fuoco bene quanto sia quanto fosse importante il quadro psicologico che guida le motivazioni del non giuramento è chiaro che chi non ha giurato lo ha fatto per una convinta scelta di coscienza ancora più complicato è il quadro psicologico dei moltissimi che invece giurarono e che lo fecero o per convinzione o per conformismo passivo o per nicodemismo perché io ho perso una parte dell'introduzione di Elisa Signori ma immagino che abbia ricordato che vi fu una direttiva del partito comunista di giurare perché era preferibile continuare a professare l'insegnamento dalla cattedra piuttosto che essere condannati alla marginalizzazione non era poteva essere dunque anche una scelta di coscienza ma mascherata da un giustificatissimo opportunismo nel caso di Buon Aiuti lui appunto si ferma si oppone al terzo al terzo dei suoi giuramenti e volevo e lo fa perché come giustamente ha analizzato la Margotti era stato già colpito prima del 31 dagli interdetti della sua chiesa a cui lo Stato e la sua università avevano dato esecuzione in omaggio alle norme concordatarie del 29 dunque a quel punto lui era stretto in una morsa e ha potuto come dire dare sfogo all'impulso di coscienza la mia domanda è non è che forse Buon Aiuti si fosse regolato male quando decise di prestare il giuramento antimodernista grazie cosa facciamo raccogliamo le domande o posso rispondere sì in realtà come le questioni tutte le questioni psicologiche e ancora più quelle di coscienza sono difficili da indagare certamente nel 1916 la situazione diciamo canonica di Buon Aiuti era effettivamente diversa cioè non erano ancora arrivate le più pesanti condanne che comunque lo colpirono successivamente quello che ho provato a ipotizzare invece è l'accumulo di disobbedienze diciamo così che Buon Aiuti aveva accumulato nella sua vita cioè in qualche modo arrivò lasciatemi passatemi l'espressione arrivò allenato alla ribellione o alla disobbedienza del 1931 perché a differenza di altri suoi colleghi che avevano avuto un passato meno travagliato da questo punto di vista di confronto con le istituzioni Buon Aiuti uno strappo lo aveva già fatto e molto doloroso proprio rispetto alla scelta rispetto alla Chiesa Cattolica dunque quando si trova di fronte alla necessità di giurare aveva già in qualche modo elaborato il lutto di che cosa significasse potesse significare rinunciare in nome degli ideali a delle sicurezze materiali appunto come erano o anche delle sicurezze di tipo ideale e dunque nel 1931 non dico con leggerezza ecco però in qualche misura con una consapevolezza maggiore di quelli che erano i costi che dovevano essere sopportati ritengo che appunto Buon Aiuti avesse oltretutto in una situazione se si guarda dal punto di vista materiale molto più incerta rispetto ad altri suoi colleghi non aveva ricevuto la pensione di fatto isolato anche rispetto al mondo ecclesiastico le sue possibilità di avere un ritorno economico diciamo così dalla sua attività nel momento in cui giura erano veramente molto molto limitate però appunto questa componente psicologica che già Levi della Vida aveva indicato intuito credo appunto possano essere ampliate nel caso di Buon Aiuti e naturalmente con tutte le difficoltà del caso si potrebbero esaminare anche per quanto riguarda le altre scelte di rifiuto di giurare Sì perché scusa solo un'aggiunta perché nel caso del giuramento antimodernista i versetti di Matteo non avevano più farmi capire incidenza cioè probabilmente sì Certo su quello ci sta diciamo è l'ambivalenza e l'ambiguità comunque delle scelte non solo in questo caso di Buon Aiuti cioè Buon Aiuti non giura al fascismo e poi collabora con un giornale di uno dei principali gerarchi del fascismo certamente sotto pseudonimo certamente aveva necessità di vivere però diciamo le ambivalenze ci sono e anche il fatto di poter usare i testi diciamo biblici non dico a suo uso e consumo però di volta in volta con un'interpretazione diversa effettivamente nel 1916 e poi nel 27 non ritenne che quel vincolo dovuto e obbedienza diciamo agli insegnamenti evangelici non erano così costringenti e dunque questo stava nella capacità o nella volontà di interpretare in un senso o nell'altro il testi biblici in questo caso i passi evangelici nel suo caso ci fu al di là delle giustificazioni che riesce a ritrovare all'interno dei testi fondanti del cristianesimo vi era una sua volontà effettivamente di non giurare altrimenti avrebbe trovato uguali giustificazioni per per non non giurare nell'essenza voleva non giurare questo al di là del riferimento c'è anche giuramento e giuramento questo è vero anche Edoardo Ruffini fare il giuramento antimodernista per poter esercitare la professione di avvocato rotale ma nella convinzione che nell'ambienti ecclesiastici la menzogna è quasi un gioco quindi si poteva stare al gioco del giuramento certo e aggiungo solo questo per quanto viene ricordato quando fece il giuramento antimodernista nel 1916 in qualche modo gli fu detto guarda vai in un'altra stanza tu giura ma nessuno di fatto controllò se lui aveva giurato o meno o se aveva giurato con delle riserve mentali che comunque la stessa Santa Sede aveva proposto come via di uscita questa sì meno dolorosa agli insegnanti universitari cattolici c'è la riserva mentale è vero grazie ci sono altre domande? sì dunque sì sì scusate anche io ovviamente Levi Levi citatissimo rispetto a Bonaiuti ha dedicato appunto a Bonaiuti una parte importante del saggio importante un embreo fra i modernisti e si capisce che lui è rimasto sotto sotto il fascino diciamo così di Bonaiuti fino alla fine della sua vita ancora si rammarica nelle memorie alla fine di uno screzzo che c'è stato volevo infatti chiedere a Marta io sono un po' curiosa anche di questi aspetti a che cosa si può riferire? io mi sono fatta l'idea che si riferisca a una critica che Levi della vita avrebbe fatto al Lutero di Bonaiuti perché è l'unico momento in cui dichiara di averlo criticato per qualcosa diciamo così quindi questo ha lasciato poi uno strascico per cui Bonaiuti non lo non lo non lo ricorda adesso non ricordo in quale circostanza viceversa Levi della vita appunto non include Bonaiuti fra quelli che hanno rifiutato il giuramento e poi spiega appunto in questo saggio un ebreo fra i modernisti dice perché Bonaiuti abbia rifiutato il giuramento non mi è mai stato ben chiaro e poi passa appunto a mocivare questa 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 sua affermazione ecco tornando alla definizione di chi di chi di chi è giurato come come va interpretato questo 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 ricerito di Levi della della vita di prendere in considerazione questo 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 giuramento appunto questa è una delle domande l'altra domanda più appunto come sempre diciamo così archivistica Levi della vita si vanta all'inizio di questo di questa parte in cui parla di Bonaiuti dice la cosa più bella una delle cose più belle che ho scritto è questo discorso che ho fatto su Bonaiuti a dieci anni dalla sua morte ma purtroppo l'ho fatto su note sparse e non l'ho raccolto è vero è scomparso questo questo testo perché sarebbe interessante sapere che cosa ha detto di così bello diciamo su Bonaiuti ecco queste sono le domande rispondo rapidamente che non so rispondere a nessuna delle due domande però mi sono presa l'appunto e cercherò sia per trovare se c'è notizia del motivo dello screzio tra Bonaiuti e della vita e anche rispetto a poter rintracciare questa commemorazione che anche a me interesserebbe molto leggere grazie per il suggerimento altre domande prego Elisa due osservazioni telegrafiche vorrei confortare il collega Paoloni a Pavia non ci siamo dimenticati di Giorgio Herrera tanto è vero che gli abbiamo dedicato un convegno nel 97 e nello stesso anno all'inizio dell'anno accademico è stata apposta una lapide che ne ricorda appunto la scelta del 31 già era stata proposta questa iniziativa nel 61 da un professore di storia romana che si chiamava Giovanni Tibiletti poi ebbe un lungo iter ma alla fine ci arriviamo quindi ci fu un convegno e diversi studi su di lui la domanda invece che vorrei fare a Marta Margotti è legata a un'osservazione interessante che ho colto a proposito delle reti amicali intorno a Ernesto Bonaiuti ecco studiando un po' le proteste intellettuali mi piace di ricordare un amico di Bonaiuti che si chiamava Giorgio Lapiana siciliano insegnante di storia del cristianesimo prete spretato che si era trasferito negli Stati Uniti dove insegnava ad Harvard storia del cristianesimo beh ad Harvard Giorgio Lapiana in collaborazione con Salvemini riesce a raccogliere 32 adesioni per la protesta degli intellettuali universitari contro il giuramento e sono nomi di grossissimo calibro mi limito a citare quello di Felix Frankfurter giudice dell'arte colte suprema amico di Roosevelt e gli altri sono come dire la creme della creme delle facoltà soprattutto di diritto e di studi umanistici Grazie Altre domande? Interventi? Io vorrei fare una domanda a Gianni rispetto a questa vicenda della damnazia memoria di Vito Volterra quale fu se ci fu una reazione da parte della scuola di fisica di Roma con la quale appunto come tu hai ricordato Volterra ha lavorato assiduamente in stretto contatto Non si sente? Devi attivare l'ad? Ci fu una reazione sotto traccia nel senso che finché fu vivo Corbino Volterra continuò a recarsi regolarmente in istituto e ad accedere regolarmente alla biblioteca nei periodi in cui desiderava farlo continuò ad avere rapporti con Corbino e ebbe un ruolo determinante nella formazione del gruppo di Fermi perché in realtà Volterra era il referente europeo per le scienze fisiche e matematiche della fondazione Rockefeller e quindi fu Volterra a far avere a vari personaggi del gruppo Fermi a segrea addirittura due volte le borze Rockefeller che servivano quindi in realtà Volterra non interruppe mai i suoi rapporti con il gruppo di Via Rani Sperna d'altra parte Volterra aveva un rapporto diciamo la dimensione del mancato giuramento di Volterra è una dimensione prettamente politica e rispetto alla strategia dell'invisibilità Volterra aveva molto ben presente che era una cosa che riguardava lui e che a lui sarebbe toccato diciamo così contrastarla purtroppo il fatto che Fermi nel 38 vada via e che Corbino fosse morto per una polmonite fulminante all'inizio del 37 di fatto finì per privare Volterra della possibilità di accedere in istituto le difficoltà che poi perse diciamo facoltà che poi perse definitivamente perché il rettore De Francisci emanò un decreto rettorale era di nuovo diciamo rettore di Roma lui emanò un decreto rettorale in cui proibiva gli ebrei i professori ebrei di accedere alle biblioteche universitarie e quindi Volterra non poteva più regarsi in istituto anche perché nel frattempo in istituto si erano diciamo a via Panisperna si erano creati altri equilibri dal punto di vista accademico che a lui non erano così favorevoli e quindi diciamo ci fu una concatenazione di di fatti da questo punto di vista approfitto della cosa anche per dire che quando ho parlato della dimenticanza di Giorgio Herrera non mi riferivo a una dimenticanza da parte dell'università di Pavia e l'università di Pavia non se ne è dimenticata e ha fatto quello che poteva per ricordarlo all'interno dell'università di Pavia però ho trovato molto significativo il fatto che ad esempio su Giorgio Herrera non esista una voce nel dizionario biografico degli italiani e quando mi sono lamentato dell'assenza di questa voce con la redazione del biografico dicendogli avete fatto un programma di aggiunte alle voci del biografico perché vi siete resi conto che c'erano alcune assenze perché non ci avete messo anche Giorgio Herrera e sono caduti dal pero e mi hanno detto Giorgio Herrera chi è? Chi lo conosce? Allora voglio dire non parlavo di una dimenticanza da parte dell'università di Pavia volevo semplicemente dire che fra i canonici 11, 12, 13 e su questo io sono d'accordissimo con quanto Elisa signori ha detto anche rispondendo precedentemente sono assolutamente d'accordo con lei quello che volevo dire è semplicemente che fra tutti questi professori quello di cui realmente è stata forse più pervicacemente rimossa la la memoria storica a livello diciamo così di cultura generale non dentro l'università di Pavia è probabilmente proprio Giorgio Herrera perché se si escludono le pubblicazioni e le iniziative realizzate a Pavia e si va a cercare qualcosa di più generale in realtà diciamo poco si trova da questo punto di vista e questo secondo me non è giusto sia perché è stato un chimico di valore e sia perché è stata una persona molto coraggiosa e molto attenta a quello che gli succedeva intorno Sì io vorrei aggiungere che anche Fabio Luzzatto non ha una voce sul dizionario biografico degli italiani e quindi questo dizionario va insomma integrato maggiormente ci sono altri interventi? Volevo soltanto dire che domani parlerò di Giorgio Herrera cercherò anche di spiegare un po' le difficoltà che ci sono nel parlare di Giorgio Herrera che è stato effettivamente un grande personaggio un grande chimico di cui molti si sono dimenticati e vale la pena però di ricordarlo al meglio come abbiamo cercato di fare a Pavia anche pubblicando degli atti che purtroppo non hanno girato molto perché molto spesso mi capita di dover ricordare chi è Giorgio Herrera di mandare in giro la pubblicazione e di far sapere qualcosa forse non siamo riusciti a far sapere meglio quello che è stato fatto che personaggio era mi auguro domani di riuscire a dire qualcosa che possa chiarire io ti ringrazio moltissimo Paola per questo intervento si potrebbe tra l'altro mettere nel sito del centro studi per la storia dell'università di Torino se voi lo consentite il pdf di questo meraviglioso volumetto che gentilmente tu mi hai inviato e che io ho condiviso con il comitato scientifico organizzatore del convegno ci dirai qualcosa di più di domani per domani e quindi te ne ringraziamo moltissimo ci sono altri interventi? se non ci sono io chiuderei qui la sessione ringraziando moltissimo i relatori di questa mattina e dandovi appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 14 e 00 mi dispiace che sia così intenso ma gli impegni sono tanti per tutto va bene grazie